Romelu Lukaku poteva essere un calciatore della Juventus, non lo dico io, non lo dicono i giornali, è lo stesso attaccante belga che ieri ha rivelato che nel 2014 la Juventus si fece avanti ufficialmente per acquistare il suo cartellino e quindi le sue prestazioni sportive, i suoi diritti alle prestazioni sportive, salvo poi rifiutarsi di trasferirsi in Serie A, dove ha precisato sarebbe un sogno giocare per quanto mi riguarda allora ecco che qua qualcosa non mi torna, però disse nel momento clou, nel momento irrecisivo quando la Juventus arrivò al Chelsea perché lui era ancora di proprietà del Chelsea a offrire per il mio cartellino qualcosa non mi convinse e quindi decisi di non andare alla Juventus, per fortuna grazie a Dio addirittura aggiunse, per quale motivo grazie a Dio? Secondo Lukaku la Juventus che lo aveva contattato per acquistarlo voleva regalarlo ad Antonio Conte per rendere grande la sua Juventus, quella con Tevez, con Llorente doveva essere praticamente l'upgrade di Fernando Llorente per quanto riguarda l'attacco juventino però qualcosa non andò per il verso giusto, la Juventus poi virò, cambiò completamente obiettivo e riuscì a comprare Alvaro Morata, poi il resto è storia, la sappiamo tutti benissimo Lukaku si sofferma su un dettaglio in particolare io rifiutai la Juventus e il giorno dopo Conte si dimise per quello che pensai grazie a Dio non sono andato alla Juve ha sottolineato poi sviolinando un attimo che secondo lui Allegri è comunque un grande allenatore questo è il racconto di Romelu qualcosa non mi è tornato qualcosa non mi è tornato perché Lukaku era sì di proprietà del Chelsea in quel momento ma già da una stagione giocava l'Everton in prestito dato che Mourinho non lo vedeva era il periodo in cui Lukaku, Salah e De Bruyne al Chelsea non riuscivano a trovare spazio lo so, detto nel 2019 questo è paradossale perché qualsiasi club al mondo al giorno d'oggi farebbe carte false per ingaggiare questi tre giocatori ma in quel momento vuoi per Mourinho, vuoi per la proprietà non si riusciva a trovare una collocazione tattica in campo per questi tre, due fenomeni è un ottimo, un buonissimo attaccante come è Romelu Lukaku forse uno dei centravanti puri di mestiere migliori che ci sono in questo momento in Europa e nel mondo Lukaku non sta attraversando un buon momento da quando Solskjaer è diventato un nuovo allenatore del Manchester United viene spesso relegato in panchina anche se lui con i suoi gol ha eliminato il PSG dalla Champions League ma da quando Solskjaer è il nuovo tecnico e quando non è più Mourinho ecco che Rashford è diventato un po' la stella centrale del progetto nel reparto offensivo dicevamo Lukaku era già un giocatore del Leverton Leverton lo riscattò per 30-35 milioni di euro per farlo un giocatore suo di proprietà a cartellino che poi è stato rivenduto al Manchester United dopo qualche stagione, 3-4 stagioni mi pare 5 forse addirittura di permanenza al Leverton al Manchester United facendo anche una grandissima plusvelenza dato che Lukaku è andato via a qualcosa come 80-85 milioni di euro Lukaku giocava nel Leverton, Conte allenava la Juventus quando dice il giorno dopo Conte si dimise un attimino mi lascia la mano in bocca perché Conte si dimise il 15 luglio del 2014 e Lukaku fu ufficializzato all'Everton come giocatore di proprietà dell'Everton il 30 luglio del 2014, nel mezzo ci sono due settimane quindi magari Lukaku si ha rifiutato il 14 luglio ufficialmente la Juventus per poi rimanere in quel limbo, per poi magari avere la preferenza di rimanere in Premier League all'Everton dove si era trovato bene, dove era rinato, dove aveva ricominciato a segnare con regolarità dopo l'Underlecht però qualcosa sicuramente non mi torna adesso qua vado puramente a memoria probabilmente Antonio Conte quando si dimise aveva già ufficialmente Alvaro Morata come giocatore nella sua rosa la Juventus aveva già chiuso con il Real Madrid per Alvaro Morata qua vado a memoria, quindi è puramente illazione, siamo nel campo delle pure illazioni però magari la Juventus aveva idea di poter comprare insieme a Morata anche Lukaku andare a formare un tridente un po' strano con anche Tevez per provare quel famoso upgrade a livello europeo che alla Juventus mancava, quei famosi 10 euro nei ristoranti da 100 Conte si è dimiso nel 2014, il giorno per il ritiro e non si sa ancora il perché non sono mai stati svelati i motivi, nel video si vede Conte nel video rilasciato alla Juventus ufficiale quindi è prova storico, è proprio la voce della società in cui Antonio dice che se ne va perché non ha più stimoli crede che sia arrivato al fine di un ciclo e bla 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 che quei giocatori non avessero più niente da dare poi sappiamo tutti com'è finita, l'anno dopo siamo arrivati in finale di Champions League sembrava si fosse dimesso perché la Roma aveva comprato i turbi e perché Quadrado non era arrivato alla Juventus col senno di poi, sempre ripensando il senno di 2019 tutto questo è folle perché, non lo so, magari Antonio aveva pensato male dei giocatori che aveva a disposizione aveva una rosa stellare col centrocampo più forte d'Italia col centrocampo forse più forte d'Europa con uno dei centrocampi più forti della storia della Juventus con Tevez e Morata che avrebbero trascinato la squadra in finale di Champions anche se, anche qua, sempre fare il calcio con i secoli ma Allegri c'è arrivato in finale di Champions magari Conte non ci sarebbe arrivato magari Conte ci sarebbe arrivato e avrebbe addirittura battuto il Barcellona sono veramente pure, purissime illazioni quello che mi fa pensare è che Lukaku vada a tirare fuori una storia così vecchia dopo che al Manchester United non si trova più bene sviolinando che Allegri è un buon allenatore dicendo che il suo sogno è giocare in Italia e qualche parola di italiano l'ha imparata da Jordan suo fratello, terzino sinistro della Lazio qualcosa bolle in pentola magari vuole lasciare il Manchester United magari Pogba gli ha parlato di questa opportunità di Juventus magari non vuole proprio venire la Juventus ma vuole comunque approdare il nostro campionato dato che l'appeal di Cristiano Ronaldo l'ha riportato su non so quanti club potrebbero permettersi cartellino e ingaggio di Lukaku in questo momento in Italia ovviamente la Juventus sì probabilmente sarebbe anche un profilo adatto a quello che serve in questo momento alla Juve come erede di Manzokic come spalla per Ken Ken, Lukaku e Cristiano Ronaldo Bernardeschi di Bala e Manzokic sarebbe se non viene ceduto sarebbe un parco attaccanti da Orbi io tendo sempre a escludere Douglas Costa e quando arriveremo al video la Juve deve venire Douglas Costa capirete anche il motivo però sarebbe sicuramente un grandissimo parco attaccanti non so altre squadre probabilmente il Napoli, l'Inter, il Milan, la Roma potrebbero provare un esborso economico importante potrebbero aver individuato il Lukaku il centravanti della rinascita se l'Inter vende i Cardi ovvio che va a puntare un profilo di quel tipo se il Napoli vende Milik ma non vedo il motivo per cui debba farlo certo potrebbe pensarci un colpo stile Eguain ma ovviamente costo del cartellino ingaggio molto molto più elevati dei 40 milioni che aveva sborsato a Real Madrid il Milan ha pionte che quindi non credo la Roma deve salutare Geku non si sa mai a Roma si parla con insistenza di contatti con Conte da almeno 4 mesi e quindi se andiamo a intrecciare un po' tutte le storie e andiamo a vedere che Lukaku poteva andare alla Juventus allenato da Antonio Conte e Conte il giorno dopo si dimise magari per il mancato arrivo di Lukaku che aveva detto no guarda rimango all'Everton e dopo due settimane va a firmare con l'Everton ecco che allora il calcio mercato della Roma può diventare fantasia può diventare stellare con Ragneri che saluta con Geku che saluta con Conte che firma e con Lukaku che firma ripeto siamo puramente nel campo delle illazioni ma era utile andare a smembrare un po' questa questione provando a fare anche un pronostico magari anche utopico per il futuro